Andiamo al volley, mentre in casa Sir si attende di capire cosa succederà con Gierbic, anche lì situazione abbastanza complessa con Sirci che ha di fatto fatto capire che non vorrebbe avere Gierbic come allenatore, non vorrebbe dividerlo con la Polonia di cui è diventato coach, si cercherà di capire cosa succederà al ritorno di Gierbic a Perugia dopo la parentesi con la Nazionale. Intanto la Bartuccini ha messo sotto contratto Benedetta Bartolini, 23enne che va a rinforzare il reparto centrale, la vedete in questa intervista, Toscana originaria di Cecina, esordito lo scorso anno in A1 con la maglia della Savino del Bene Scandicci che ha conquistato il primo trofeo, la Challenge Cup. Per lei anche apparizioni in azzurro nelle selezioni giovanili con cui nel 2015 ha conquistato il terzo posto al Festival Olimpico della Gioventù nella categoria Under 18.